Robinhood è l'exchange più semplice di sempre? Ma com'è nata? Quali sono le possibilità che ci dà Robinhood? Come ricevere Bitcoin in regalo con Robinhood e tutti gli altri servizi all'interno dell'applicazione? Benvenuti a tutti amici su Guadagnare Facile Gratis. Vi ricordo di lasciare un bel like al video, di iscrivervi al canale e di accendere la campanellina delle notifiche. Avete fatto? In descrizione vi lascio tutti i link più importanti, inoltre vi lascio il link del canale Telegram, ragazzi, venite dentro. Oggi faremo un bel viaggio all'interno di Robinhood Exchange. Oltre a vedere le varie relative possibilità che abbiamo all'interno di Robinhood Exchange, andiamo anche a ripercorrere la sua storia e andremo a fare un bellissimo tutorial molto, ma molto semplice per tutte quelle persone che vogliono conoscere di più su questo exchange. Immagina un giorno di primavera del 2013, quando due giovani imprenditori della Silicon Valley, Vladimir Tenev e Bajubat, si ritrovano a chiacchierare riflettendo sul futuro della finanza. Entrambi laureati a Stanford avevano già avuto esperienza nel mondo del trading algoritmico per grandi istituzioni finanziarie, ma durante tutto il loro percorso avevano notato una grossa ingiustizia. Mentre le grandi banche e gli investitori professionisti potevano permettersi commissioni irrisorie per il trading, i piccoli investitori dovevano pagare molto di più per le stesse operazioni. Da questa constatazione nasce un'idea rivoluzionaria. Perché non creare una piattaforma che permetta a chiunque, indipendentemente dal capitale iniziale, di accedere al mercato azionario senza pagare commissioni? Ed è proprio da questo desiderio di democratizzare la finanza che nasce Robinhood. Nel 2015 Robinhood lancia ufficialmente la sua app mobile, offrendo la possibilità di fare trading su azioni ed ETF senza commissioni. La risposta immediata è travolgente. Milioni di giovani investitori, molti dei quali non avevano mai avuto accesso diretto al mercato azionario, si registrano entusiasti. Con la sua interfaccia semplice e intuitiva, Robinhood diventa presto la scelta preferita di una nuova generazione di investitori, attratti dalla promessa di un trading accessibile e trasparente. Ma non è tutto. La vera svolta arriva nel 2018, quando Robinhood decide di ampliare i propri orizzonti ed entra nel mercato delle criptovalute. Grazie a questa mossa dal 2018 gli utenti potevano così vendere, comprare e scambiare bitcoin, ethereum e altre valute digitali. Tutto questo sempre senza pagare commissioni. E qui ci fu la vera rivoluzione, perché Robinhood, nata come piattaforma di investimento in azioni, andò a conquistare anche un pubblico enorme interessato alle criptovalute. Ma naturalmente, come tutte le migliori storie di successo, non mancano assolutamente le sfide ed i problemi. Nel 2021 Robinhood si trova al centro di una delle vicende più controverse della storia recente del trading, il caso GameStop. Un gruppo di investitori retail, uniti da social come Reddit, spinge il prezzo delle azioni di GameStop alle stelle, sfidando i fondi di investimento tradizionali. A un certo punto Robinhood decide di limitare l'acquisto di queste azioni, scatenando un'ondata di proteste e critiche. Molti hanno accusato la piattaforma di proteggere gli interessi delle istituzioni finanziarie a discapito dei piccoli investitori. Ma nonostante questo evento, il quale ha messo Robinhood in una posizione molto svantaggiosa e negativa, l'azienda ha continuato a crescere. E sempre nel 2021 segna un'altra tappa cruciale per la storia di Robinhood, ovvero la tanto attesa quotazione in borsa. L'azienda partita da un'idea rivoluzionaria per rendere i mercati più accessibili diventa essa stessa un attore principale nel mondo della finanza. Con milioni di utenti attivi e un approccio costantemente innovativo, Robinhood resta fedele alla sua missione, ovvero quello di rendere accessibile la finanza a tutti e ovunque. Ebbene amici, dopo aver fatto questo bellissimo viaggio insieme per capire come è nata Robinhood, andiamo ora effettivamente a fare un bellissimo e semplicissimo tutorial per tutte quelle persone che desiderano sapere come funziona l'applicazione. Vi ricordo che Robinhood rilascia numerosi premi, fa numerose campagne pubblicitarie, ad ora è attiva quella di 30 euro ad utente in bitcoin se invitiamo una persona con il nostro link. Vi lascio il mio link di riferimento qui sotto in descrizione. Vamos! Ed eccoci amici all'interno dell'applicazione Robinhood. Adesso in questo tutorial vi farò vedere effettivamente come funzionano tutti i servizi di Robinhood, come possiamo andare anche a guadagnare delle crypto valute in modo completamente gratuito, oltre alla promozione che in questo momento è di 30 euro a persona, abbiamo anche la possibilità di fare un learn to earn, quindi in sostanza possiamo andare a studiare il mondo delle crypto, apprendere il mondo delle crypto e guadagnare in sostanza questi fantastici premi in modo completamente gratuito, oltre anche la sezione di staking che se non sbaglio ad ora è disponibile quello su Solana con un API anche abbastanza importante. Eccola qui, vediamo anche qui sull'asset Solana. Comunque amici prima di iniziare vi ricordo che questo video è solo a titolo informativo, vado a fare un tutorial per spiegare un pochettino come funziona l'applicazione, quindi in sostanza ragazzi attenzione al mondo crypto, quindi mi raccomando. Allora detto ciò qui abbiamo la sezione del nostro portafoglio totale, naturalmente ad ora un valore di 30 e qualcosina di euro totali, qui avremo la nostra chart dell'andamento del profit loss del nostro totale, ok, di quello che abbiamo in sostanza del valore totale che abbiamo all'interno di Robinhood, qui abbiamo scambio a bitcoin con zero commissioni per saperne di più, abbiamo anche naturalmente come dicevo all'inizio del video, possiamo scambiare bitcoin a commissioni zero, scambio a bitcoin e nessuna commissione spesa, spread aggiunti da Robinhood e crypto, solo PTC, eccetera. In sostanza qui abbiamo tutte le principali criptovalute, ora le andremo a vedere, quindi Robinhood non implementa moltissimi di asset, però abbiamo in sostanza tutte queste cripto, ora le andremo a vedere, qui abbiamo tutte le chart delle 5 principali criptoasset con variazioni importanti giornaliere, poi abbiamo le principali criptovalute bitcoin, ethereum, solano, usdc, xrp, dogecoin, toncoin, cardano, avalance, shiba inu, shainlink, bitcoin cash, polkadot, tuniswap, litecoin, nier, protocoll, nier, pepe, stellar, ethereum classic, cave, arbitrium, optimist, dogwifat, phantom, cosmos, the graph, bonk, polycon, jupiter, eos, tezos, sandbox, wormhole, decentraland, zk, sink, compound e celestia. Non ce ne sono molte ragazzi, comunque abbiamo sia stablecoin che memecoin, come abbiamo visto anche bonk. In sostanza semplicissimo ragazzi. Poi abbiamo la sezione conoscere le criptovalute, se ci mettiamo a fare tutte, diciamo, tutte queste task qui, quindi possiamo apprendere e guadagnare, diciamo, su ogni task, un euro, poi due euro, un totale tre, quattro euro, e in sostanza nove euro barra dieci euro completamente regalati, soltanto apprendendo e facendo i quiz. Naturalmente bisogna depositare almeno 20 euro per poter servire questa lezione e guadagnare un premio. Quindi per accedere a queste task dobbiamo effettivamente andare a fare un deposito di 20 euro. Poi, amici miei, prima di andare a parlare di come mandare e depositare, perché possiamo mandare cripto, eccetera, 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 vi voglio parlare della promozione che c'è in questo momento. Se andiamo sul nostro account qui sotto, sull'icona dell'omino, abbiamo premi per persone invitate. In sostanza qui, se le persone si iscrivono, fanno un deposito di almeno 30 euro, 30-35 euro e vanno a comprare un asset, poi lo possono pure scambiare subito, non abbiamo limiti di tempo per questa prova, poi magari cambieranno. Tutti e due, naturalmente, guadagneremo 30 euro in bitcoin, per un massimo di 10 inviti, quindi un totale di 300 euro in bitcoin, ragazzi, non male. Detto ciò, ritorniamo indietro. Allora, come naturalmente fare magari un deposito, mandare criptovalute e quant'altro? Noi se andiamo a scegliere, per esempio, un asset qui sotto, in basso a destra sulla ricerca, mettiamo per esempio Jupiter, che ha fatto anche un bel pump nelle ultime 24 ore, come ben vediamo, qui naturalmente questa criptovaluta non è supportata, i trasferimenti e quant'altro. Quindi, in sostanza, ci sono degli asset che effettivamente non possiamo né depositare né prelevare, almeno che noi li scambiamo in euro e naturalmente andremo a fare un bonifico nel nostro conto. Per esempio, prendiamo un altro asset, prendiamo bitcoin, che sicuramente, ecco qui, possiamo inviare e ricevere, ok? In sostanza, inviare, se noi abbiamo bitcoin, possiamo naturalmente inviare andando a revisionare prima il nostro account e naturalmente farci fare la verifica, il numero di telefono e l'indirizzo email e in sostanza dopo potremmo fare sia il prelievo che il deposito in criptovalute. Quindi, una volta fatte tutte le verifiche, ragazzi, ad ora potremo mandare asset cripto e riceverli. Su invia, qui possiamo andare a mettere, naturalmente tramite QR code, possiamo fare l'invio tramite QR code e oppure inserire manualmente. Detto ciò, anche per il deposito QR code oppure possiamo copiare l'indirizzo di deposito. Ragazzi, semplicissimo, quindi in sostanza molto semplice, funziona per come tutti gli altri wallet o exchange. Per esempio, andiamo a prendere anche Ethereum, anche qui possiamo sia inviare e ricevere e quant'altro. Poi avremo per ogni asset tutte le notizie principali qui sotto, quindi molto, molto interessante. Poi abbiamo numerosi premi, diciamo premi di staking e quant'altro su alcuni asset, per esempio, sull'USDC abbiamo questo, acquista USDC, guadagna il 15% di premi sui tu USDC senza limite. Per un periodo di tempo limitato guadagna USDC limitati, guadagna il 15% di premi sulle tue partecipazioni USDC senza limiti di guadagno, i premi sono aggiunti al tuo saldo USDC per la prima settimana e il mese successivo. Puoi scambiare i tuoi USDC in qualsiasi momento. Per esempio, se andiamo a prendere Solana, avevamo, diciamo, questo staking qui. In sostanza, come funziona, guadagni un EPEI stimato pari al 5,58% quando fai stake di Sol, i guadagni sono versati settimanalmente. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, ti invieremo un importo pari ai tuoi guadagni in Sol. Ottieni premi settimanali che corrispondono al 100% dei tuoi guadagni staking con un premio massimo di 10.000€. Condizioni flessibili, sblocca stake quando vuoi e scambia i tuoi soldi. Quindi una sorta di staking flessibile, ragazzi. Per ogni asset magari avremo qualcosa. Andiamo a vedere, per esempio, Dogecoin, non abbiamo niente e quant'altro, ok? Allora, naturalmente, come fare se io ho fatto il primo deposito su Robinhood? Quindi come comprare crypto? Naturalmente, per tutti i dati dell'Iban, basta andare qui sotto sull'icona del lumino e fare trasferimento di dinero. Qui avremo tutti i nostri dati dove mandare il bonifico, eccetera. In sostanza, una volta che abbiamo i nostri fondi, possiamo andare a comprare crypto. Per esempio, io voglio andare a comprare XRP. Vado su XRP e faccio acquista. Quindi metterò un totale di XRP che voglio acquistare. In questo caso, esempio, 30€ anche per chi vuole aderire sulla promozione. Faccio continua e scorre il dito verso l'alto. Qui ci va a dire, comunque sia il costo o lo spread di acquisto, pari praticamente allo zero, importo XRP, costo totale e quant'altro. Scorre il dito in su e vado a fare l'invio dell'ordine. E qui, praticamente, l'acquisto mi è stato fatto. Quindi ho comprato XRP, fatto. Io ad ora ho un totale, vedete, sulla prima schermata di XRP, un totale pari a 30,01 centesimi di euro in questo momento. Se io voglio rivendere l'asset, lo posso fare benissimo subito? Certo che sì. Vado sull'asset che ho comprato, oppure l'asset dove ho i fondi da scambiare. Vado a fare vendi e faccio o tutto o vendo delle frazioni, o comunque sia, diciamo, degli altri importi. Scorro il dito in su e faccio un invio di ordine di vendita fatto. Quindi il mio ordine è stato venduto, vedete, ad ora ho un totale di 30 euro, quindi in sostanza all'interno del mio Robinhood account. Ed eccoci amici all'interno. Come prima cosa troviamo la nostra performance del nostro portafoglio. In sostanza possiamo andare a switchare in mensile, in tempo reale, giornaliere e quant'altro. Quindi abbiamo il totale del nostro portafoglio. Ma effettivamente come riuscire ad andare a guadagnare questi 30 euro in modo completamente gratuito ad amico, andiamo a vedere subito in basso a destra sull'icona dell'omino abbiamo premi per persone invitate. Se noi clicchiamo qui ragazzi avremo tutta l'informativa. Quindi invita persone che conosci, la persona che inviti possono guadagnare 30 euro in bitcoin quando si iscrivono. Invia il tuo collegamento personale a persone che conosci, la persona che è invitato si iscrive e deposita almeno 30 euro per iniziare a fare trading, la persona che è invitato guadagnerà 30 euro in bitcoin. Naturalmente qui ci sono i limiti, le persone, un massimo di inviti di 10 persone e quant'altro. Comunque cliccando qui avremo accesso al nostro link quindi da mandare ai nostri amici. Quindi detto ciò amici, come bisogna fare dopo effettivamente per andare a fare questi trade? Qui sotto sulla sezione cerca ragazzi possiamo cercare i nostri asset, quindi abbiamo bitcoin, ethereum, solana, usdc, xrp, dogecoin, toncoin, cardano, avalance, cibaino eccetera eccetera eccetera. La promo parla di un trade su un qualsiasi asset, quindi in sostanza posso andare a fare un trade su bitcoin, ethereum, solana, usdc e quant'altro. Naturalmente se facciamo tutto questo solo per la promozione, attenzione all'asset dove andremo a fare il trade perché naturalmente ci sono asset più volati che meno volati, in sostanza quindi se facciamo solo la promozione è bene magari fare il trade e poi riscambiare subito con una stablecoin o riscambiarli subito in euro. Quindi in sostanza come fare? Una volta che abbiamo ricevuto il nostro premio oppure una volta diciamo in primis una volta che andiamo a depositare all'interno di Robinhood e per fare il deposito bisogna andare qui in basso a destra sull'omino trasferimento di denaro e possiamo fare il trasferimento sul nostro diciamo account SEPA di Robinhood dobbiamo andare a fare un trade quindi per esempio io voglio scambiare la crypto in usdc, voglio scambiare i miei soldi in usdc quindi magari clicco usdc, qui metterò l'importo di 32 euro e farò continuo. Naturalmente io ora ho solo 30 euro in bitcoin però facciamo finta che ho fatto il primo deposito di 32 e ho acquistato usdc. Però naturalmente ora vi faccio vedere anche io in bitcoin ho questi 30 euro quindi vado a rivendere questo per quando riceviamo i premi se li vogliamo rivendere o mettere in altri asset quindi farò tutto quanto in sostanza vendi su bitcoin tutto, scorri dito in alto per inviare, invio dell'ordine e effettivamente Robinhood ha scambiato i miei bitcoin in sostanza in euro. Ad ora io effettivamente se voglio comprare un altro asset abbiamo fatto l'esempio di usdc ma potrebbe anche essere solana per esempio clicco su solana stesso esempio faccio acquista e metterò i miei 32 euro a questo io in sostanza ne ho 30,8 e naturalmente farò l'acquisto farò continua scorro verso l'altro e naturalmente avrò ecco qui fatto dettagli dell'ordine avrò ora 30 euro e passa in solana naturalmente questo per fare il trade poi se vogliamo rivendere dobbiamo fare l'operazione inversa quindi metterò il totale di vendita dell'asset che ho acquistato e farò fatto e ce li avrò in diciamo in euro quindi in sostanza tutto questo per andare a partecipare alla promozione comunque vi ho fatto anche vedere come fare trasferimenti e quant'altro abbiamo anche la possibilità di andare a fare trasferimenti in crypto ragazzi però la promozione parla in sostanza diciamo di un deposito quindi ora non so se effettivamente se facciamo ora devo aprire qui in sostanza dare l'ok per fare i trasferimenti in crypto ora naturalmente dobbiamo fare diverse verifiche non so in sostanza se la promozione può funzionare anche con un trasferimento crypto o meno però naturalmente la promozione parla di deposito ed eccoci qui amici siamo all'interno del mio Robinhood se andiamo sulla sezione home molto semplice oltre magari alla promozione che abbiamo dei 30 euro in bitcoin vi ho fatto dei video ve l'ho spiegato molto bene andiamo a vedere la sezione learn to earn qui sotto ragazzi avremo conoscere le cripto valute apprendi e guadagna 2 euro in avax apprendi e guadagna 1 euro in bitcoin impare e guadagna 2 euro in bonk apprendi e guadagna 1 euro in pepe apprendi e guadagna 5 euro in USDC ora andremo a vedere come fare per esempio su avax qui abbiamo la più grande della somma delle sue parti qui ci va in sostanza a dire che cos'è avalance che cos'è avax non una non due ok cosa può fare avalance come si usa avalance eccetera 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 guardare il ruolo di avalabs e quant'altro arrivati alla fine appena abbiamo letto tutto naturalmente abbiamo metti alla prova le tuoi conoscenze cliccando qui ci rimanda al quiz vuoi guadagnare 2 euro in avax e ora di mettere a prova le tue conoscenze su avalance andando avanti ci va a chiedere che cos'è avalance quindi una piattaforma scalabile per blockchain esatto avalance è altamente scalabile per contratti intelligenti da app blockchain creata ad hoc che cos'è avax naturalmente il token nativo di avalance quali sono le tre blockchain di avalance c chain x chain p chain andiamo avanti che cos'è una sottorete un gruppo di validatori cosa si sta costruendo su avalance giochi multiplayer applicazioni centralizzate entrambe le risposte esattamente quindi andiamo avanti abbiamo completato tutte le domande abbiamo vinto 2 euro in avax dopo vi farò vedere anche come scambiarli se li vogliamo scambiare ora andiamo a bitcoin un euro in bitcoin quindi qui abbiamo tutto quello che c'è da sapere su bitcoin quindi c'è da studiare bene ragazzi metti alla prova le tue conoscenze anche perché se sbagliamo una domanda dovremmo riniziare tutto da capo cosa rende il btc scarso un limite a quanti è possibile creare cosa è possibile fare con i bitcoin effettuare scambi effettuare acquisti tutte queste risposte esatto quanti bitcoin saranno dati ricompenza ai minor dopo il dimezzamento previsto per aprile 2024 ovvero l'albing che c'è già stato 3.125 3.125 scusate non tre andiamo avanti con quale frequenza sono estratti nuovi blocchi sulla block chain di bitcoin ogni 10 minuti esatto dopo aprile 2024 quando è previsto il prossimo dimezzamento naturalmente ragazzi 2028 ogni 4 anni quindi amici detto ciò andiamo avanti ora vi naturalmente non andremo a fare tutto quanto tutto 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 comunque per esempio sempre andate a guadagnare 2 euro in bonk se sbagliamo una domanda possiamo anche utilizzare questo metodo qui per esempio che cos'è bonk ora io vado a sbagliare una block chain possiamo naturalmente fare così fare uno screenshot della risposta esatta e poi magari andremo avanti in sostanza su quale block chain è stata lanciata bonk bitcoin risposta sbagliata screenshot e avremo tutte le risposte del caso quando andremo a rifare in sostanza tutto tutte le domande diciamo riguardanti in questo caso bonk ma anche come tutte le altre naturalmente una volta che abbiamo i nostri premi ecco qui ci sono stati dati noi naturalmente abbiamo guadagnato in bitcoin in avance andiamo su avax per esempio non vogliamo tenerli in avax andiamo su avalanse possiamo fare la vendita assolutamente subito quindi possiamo andare a mettere 2 euro in avax continua metterò tutto quindi scorro su e andremo a cambiare i nostri premi che abbiamo guadagnato con in learn to earn all'interno di robin 1 quindi amici video molto interessante spero che vi sia servito noi ci salutiamo qui ragazzi come sempre alloce ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao